75.000 Tantissimi giovani appassionati agli incontri con gli scrittori a libri come la manifestazione sulla letteratura in corso a Roma Maria Barresi Un libro sicuramente ti emoziona di più Scopri il mondo, riesci a capirlo in diversi modi Rubare segreti e scoprire come nascono le storie che siano d'amore o gialli come quelli di Gianrico Carofiglio magistrato con la passione per la scrittura presenti a libri come la festa dei libri e della lettura in corso a Roma Io credo che il noir, il giallo, la detective story o il legal thriller consentano a chi li legge di avvicinarsi a quella zona d'ombra senza avvertire il pericolo che si prova avvicinandosi nella realtà A libri come anche autori esordienti come Alessandro D'Avenia 32 anni, il suo primo romanzo pubblicato da Mondadori Bianca come il latte, rossa come il sangue una storia d'amore commovente tra due adolescenti un libro ricco di passione che ci dice deve a uno dei suoi professori padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia a Palermo Una frase di padre Puglisi se la ricorda? Di cercare la verità perché è l'unica cosa che rende liberi E D'Avenia professore a sua volta ai suoi alunni fa questo augurio Essere dei ribelli per le uniche cose che contano la verità, la bellezza e il bene Ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione Vi lasciamo adesso come sempre a Tg1 Economia Buon giorno Buon giorno